Io Pannoni avevo 4,5 metri di scappaggio, quindi era la tenda di una parte, un intervino di un problema. Era il mio capo, direttore della tentabilità. Grazie. 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 oltre poi li ritagli lo sfondo tu sei immobili tu sei elettricista ma tu ce l'hai io ti devo farlo ti appoggio io ne faccio una singola perché a uno di te di vendere tutto lo strato si è un personaggio non rietro non li schiava